Orgoglioso di concludere questa giornata dedicata all'arte e alla moda qui ad Altrend Studio con la maestra Anna Maria Bracci e cinque grandi, grandissime opere anche molto simboliche della sua arte che spaziano un po' del periodo centrale in cui la maestra ha esposto un po' in tutta Europa, da Amsterdam a Berlino, in tutta Italia, nei vari musei italiani e in quel periodo vive ancora a Milano ma esercitava anche nello studio sui navigli in cui tutti i turisti che passavano, gli appassionati d'arte, i collezionisti, non potevano non fare visita e acquistare una delle sue magnifiche opere di quel periodo che le nostre supermodelle del team Artes hanno in questo momento in mano, Stefania Danubio con il quadro Verso il Futuro, un'opera molto complessa, sempre della maestra, in cui si intravede due uomini, delle figure umane, un bambino, un padre forse, insomma dove la maestra manda dei messaggi che ovviamente non tutti sono in grado di comprendere proprio per la complessità delle opere come vedete anche nell'opera di Maria Bona, più piani visivi, nell'opera che si intitola La città sospesa e poi un'opera a cui noi tutti del team Artes siamo molto legati perché nella prima Biennale di Venezia nel 2017 alla loggia del Temazza Venezia, in quello che era l'idea dell'immagine nell'immagine, la maestra ha voluto creare per noi quest'opera dal titolo Mondi Paralleli che vediamo al centro, insomma un'opera fantastica, vedete i vari piani di visione che era proprio l'idea che io avevo lanciato nel 2017 per questa importante mostra per la Biennale di Venezia continuiamo con la nostra Miss Volto Artes che con il quadro Coppia Mosaico, anche questo siamo sempre, come vedete abbiamo tentato di fare un piccolo percorso nell'arte della maestra Anna Maria Bracci nella fase centrale, diciamo anche a livello cromatico per dare un senso a questa presentazione che conclude questa bellissima giornata qui al Trend Studio e questa che è il nostro format Repicture un po' allargato, anche per ringraziare le nostre super modelle e chiaramente concludiamo con l'opera in mano alla nostra Miss Sport Art Susanna Davi, una delle opere più complesse di Anna Maria Bracci, dal titolo Susanna Città Sospesa, ecco le altre invece c'era Città Corteo Silente, infatti l'ho chiesto proprio perché ci tengo a essere preciso, quindi verso il futuro Corteo Silente, Mondi Paralleli, Coppia Mosaico e Città Sospesa, un autentico percorso straordinario di una delle più grandi artiste italiane viventi che io ringrazio sempre per la fiducia che ha avuto fin dal primo momento, come attesta appunto il quadro centrale Mondi Paralleli, in me e nell'operato del team Artes. Quindi grazie, grazie, credo che non si poteva concludere in modo migliore, grazie alle nostre super modelle e alla grande maestra Anna Maria Bracci.